e salve youtuber e benvenuti a questo nuovo video del canale della categoria casual questa volta prendiamo diablo 3 e per la consiglione con l'espansione reaper of soul e ho scelto come personaggio per accompagnarsi nelle nostre avventure casual di diablo 3 il crociato e per l'occasione ho chiamato una pilota infatti si chiama sir londo dunque scusate cali di framerate varie edito le conversazioni insomma il gioco l'ho già sentito qualche volta se volete sapere un po' più della trama diciamo che all'inizio la mia opinione di diablo 3 non è che fosse molto alta perchè l'avevano fatto uscire che era ancora in uno stato non esattamente giocabilissimo e infatti molti lo hanno criticato diablo 3 però vi posso assicurare che con gli ultimi aggiornamenti e soprattutto con l'espansione diablo 3 è parecchio migliorato non è assolutamente come i fastidi diablo 1 e diablo 2 scordatevelo però è divertente sei tu lea è così sono tornata attenzione tutti i rifiuti stanno mutando ah ma ci muovere a volte non mi mancava il fruttore ehi questo sta affossando i miei affari i morti ci travolgeranno tutti come assicurarsi che ringrazio dovresti sono usciti 16 miliziani sono qui per dare una mano come fermiamo ammiro il tuo coraggio abbi fede capitano beh ti ho visto combattere assaccano le barricate ma quanto è figo ammazzare la gente che ho conosciato ce ne sono altre nelle rovine lungo la strada oh le ali giusto che figata praticamente le ali è un bonus che ti dà la blizzard che quando compri diablo 3 ripro a soul sono livellate scudo podero e si fa con la destra eh ma questo già lo sapevo grazie l'ho già fatto un dungeon grazie per l'oro buon uomo morto oh raro un nemico degno un nemico degno d'essere ucciso la mia collera scazzeggia un nemico degno Vabbè che siamo in norma Non è abbastanza a collere A proposito posso equipaggiare qualcosa di quello che ho preso 2-3 danni Vabbè 100% in più di danni direi la spada L'ammazza afferrata era figa però a questo punto Non è più forte ma è più forte Livel 3 Livello che è un piacere Un squaccio Punizione Il crociato colpisce il nemico e tiene essenzia affinata Immontando la probabilità di parata per breve tempo Le richiede scudo Squarcio 5 colla per attacco Incendi all'aria di fronte al crociato Infelgendo danni ai nemici colpiti dalle fiamme È molto più figo squarcio Dobbiamo bruciarli Non c'è niente Mi ho dimenticato qualche passaggio lì Sì Oh forsiere Ma cintura è una cintura Cazzo è stata una genialata comunque Questa cosa delle ali veramente è stata una genialata Le ali di Imperius sono veramente fighissime Mi piacciono un sacco Poi sul crociato Poi sul crociato ha fatto un bel effetto Cazzo sembra un bel effetto Quanti Sono normali schifidi però Sono sempre guanti Un'armatura 3 stranvecchi E' Fatti ricordo 3 stranvecchi Ma dai L'ho praticamente chiotato Questa chiotto Oh Quanti roba che è crolla a casa ehi, guarda guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda ho bisogno di più colleri non c'è la capacità sbloccata no, abbastanza colleri devi darmi tutti quei oggetti mi fame stai fermo grazie scusate un secondo guarda, regia mi perseguita maledizione scudo abbaiante una forte luce si propaga dallo scudo cercate gli amici di fronte al crociato meh meh avrei preferito qualcosa di più danno più tank ma vabbè accecarli potrebbe essere un buon diversivo per i primi livelli soprattutto per i boss devo tornare in mare eh no devo tornare nuova tricca cioè mi sono teletrasportato da dove mi stavo teletrasportando un genio c'è che cazzo ok ok bene grazie per l'aiuto ma è coraggioso grazie vediamo se abbiamo bloccato qualche oggettino migliore di quello che ho si poi armatura no guanti no strano questa buona quest'altra molto più buona e si ritorna la marca serrata lea troviamo tutti prima dovremo aprire la cazzo metterlo ecco fammi aprire il cancello perché c'era quel lucchetto così grosso ma non so molto su di lei è morta quando ero molto piccola sono stata cresciuta da zio d'ecard e tuo padre? so che era un grande guerriero è caduto durante l'invasione di Tristram da parte dei demoni pantaloni mi saprebbe che andare in giro in tunica da notte in pigiama guarda una cantina nascosta seguimi eh entriamo dentro la cantina nascosta ci sono segreti oscuri qui no perché una cantina nascosta ma non ci ho mai creduto ecco buono povero personaggio è shottato mamma mia ma quanto male è il crociato ecco la chiave ehi andro io grazie Aidan è venuto da me la scorsa notte intuivo ciò che tormentava il suo povero cuore e l'ho consolato come meglio potevo ciò nonostante ovunque sia diretto l'inferno lo seguirà le ombre minacciano Tristram ancora una volta come Aidan me ne andrò prima che arrivino per chi non lo sapesse quello era un riferimento a Aidan che era praticamente il primo PG che facevate su Diablo 1 poi vabbè sconfiggete Diablo in Diablo 1 voi però venite corrotti perché l'eroe si prende l'anima di Diablo dentro di sé quindi diventa il viandante oscuro di Diablo 2 poi c'è una forma di Diablo sconfiggete sostanzialmente quella era una citazione a Diablo 1 barra Diablo 2 ce ne stanno parecchie qua la loss è finita anche perché siamo in 3 San Mar direi che di citazioni ce ne stanno a sbavare tra l'altro tra un po' andremo a combattere il signor Leoric quindi è proprio una marea di ricordi che vengono a galla questa è una delle parti di Diablo 3 che mi è piaciuta parecchio olè cado da tipo 18 metri e non mi faccio un cazzo ok tutto è regolare a livelli alti a livelli alti mi ha più la mia collera è scarsi Patechis 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 ho bisogno di più collere double shot il mio nome è Lagdanan e sono maledetto un tempo ero il capitano dell'armata di re Leoric e vivevo su per onorare la mia terra e il mio sobrano nessuno ha mai amato il proprio re quanto io ho amato il mio persino mentre affondavo la mia lama nel suo cuore oscuro e corrotto prima che Reino fissesse fuori Diablo e Diablo 1 Diablo in general prima nel corpo del figlio Albrecht da quello che ricordo che lo trasforma in un abominio non mi ricordo poi nell'arcivescovo Lazarus e infine Releoric da quello che mi ricordo oppure era prima Releoric e poi Arcivescovo Lazarus no 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 era prima Arcivescovo Lazarus e poi Releoric cazzo mi devi giocare Diablo 1 no no abbastanza collere oh guarda guarda Coldi cuore nella Regno orientale dal Kajistan ho saputo di guerrieri benché gli abitanti del luogo fossero piuttosto quest'ordine fu fondato 200 anni orsono proprio mentre raccoglietti amato ma questi crocciati si direttero est seguendo tutt'altra missione c'è qualche oggettino interessante ho ancora di più nuovo scudo oh ma non ho stivali oh rari sarà uno scontro interessante la mia collera scazzeggia ma ce l'hai scontato non vedi la terra triste non vedi la Scusi Uccidimi ti prego Non voglio cambiare E stai carmelo però E' bisogno di più carne E' massa E passa la carne Ho esplorato tutto il dungeon? No, mancava una parte lì Forse c'è un forziere Non credo ci siano mostri O altri O altri passaggi Mi sa che è un passaggetto unico Piccolino di quelle due stanzette Molto 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 Colpa di Lazarus ne sono certo Egli solo aveva il rispetto del re E sussurrò oscure diaboliche malie al suo orecchio Distillandogli l'idea di un imminente attacco Da parte della marca occidentale Timorosi di contraddire l'Arcivescovo Quegli stolti consiglieri La consentirono a mandarci a morte Eccolo 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 Tuo Arriva Cain Resistic No Se avete toccato a Diablo 2 Non c'è bisogno che Cain abbia bisogno di presentarsi E' un altro raro E' andato Eh prego prego E' meraviglioso sapere che Lea sta bene Ho temuto il peggio Ho saputo di questo passaggio segreto Grazie alle antiche mappe che ho rinvenuto E' grande come sempre tu Non ti smettisci mai Oh Ok Ok E mi sono Dio mio quanto sono deficiente No l'ho rifatto di nuovo Ma che cazzo Scusate ragazzi Sono il primo da affermare che sono ricoglionito Non me lo dite anche voi No scherzo Insultatemi quanto vi parlo Di cosa? Vabbè Sentiamo la caccia Che tanto Diablo Non ce n'è bisogno che Vediate troppo le cacce Sono epiche ma Non ce n'è molto bisogno di guardarle Grazie a te e al tuo amico Quindi giocate al gioco e gustatevele da voi Oppure guardate su youtube ancora meglio La profezia dell'ultimo giorno ne parla come di un segno certo Prego zio Basta Grazie Il re scheletro un tempo era il nostro amato signore Leoric Fu reso folle dalla malvagità di Diablo Perse entrambi i figli e la sua stessa anima Allora io sarò la cura Il segreto per sconfiggerlo sta nella sua Beh direi che anche per oggi è tutto Ci rivediamo al prossimo video del canale ragazzi Ciao ciao